abbiamo un grave problema di superfetazione gotowi il problema è questo vedete vedete il problema il braccetto del tergicristallo va al di là del vetro va giù e anche qua va da questa parte e questo è un problema di tipico di superfetazione gotowi ma a cosa è dovuto scopriamolo è dovuto innanzitutto al fatto che qualche deficiente ha messo la vite qui per fissare il braccetto il deficiente in questione ovviamente sono io ma il vero problema è questo vedete c'è un disastro di superfetazione questo questo fidel incastro balla ma non è non è il braccetto questo qui a ballare ma è tutta la meccanica interna del del rostro del gotowi all'interno che che è superfetato e quindi scende giù qui vedete come balla è un movimento che non dovrebbe fare allo stesso modo io arrivo qui addosso qua quindi questo non va bene quindi mi sono dotato opportunamente di un motorino di recupero con la sua staffa con la sua rondella gotowi apposita quindi motorino a cui faremo una breve revisione probabilmente ingrassandolo chissà e dopodiché ho acquistato anche un braccetto online l'ho comprato online e vedremo se si adatta qui questo è in buone condizioni queste righine non sembrano danneggiate e quindi adesso proveremo a fare questa cosa i fratelli gentili sono stati così gentili da mandarmi non solo il braccettino mi sembra realizzato veramente bene made in italy wow made in italy questo è piacevole ma anche un tergicristal nuovo nuovo ed è molto più bellino rispetto a a questo questo semi fancy qua che trovo meno bello perché è dotato di queste superfettazioni vedete questa inutile superfettazione di plastica è brutto è brutto e quindi questo lo trovo più simpatico perché è più simile all'ordinale bene ma bando alle cianci realizzo che la situazione gotowi qui è totale perché non è facile raggiungere quell'oggetto quel sistema perché questo ma questo è tutto unico non ha altre leve perché giustamente la il tergicristallo è uno solo interessante quindi potrei pulire questo intanto ma io direi prima di provarlo sembra facile visto da qui c'è questa clip verde bisogna allargarla e viene fuori il connettore abbiamo solo tre fili come potete ben vedere uno due tre chissà chissà se riesco a fare la stessa cosa qui intanto bisognerebbe capire dov'è il connettore verde e come raggiungerlo mamma mia è in posizione in vereconda perché qui lui è così quindi è sozzas no eh sì è qua è qua e qua eccoli i fili sono questi tre è assolutamente impossibile rimuovere questo connettore da qui perché non ci entrano le dita perché ci sono diecimila altri cazzi devo necessariamente smontare tutto cosa che ora non farò perché prima pulirò questo oggetto e lo superfeterò non avendo modo di fare altre inquadrature purtroppo sarete costretti a vedere così ma io me ne sbatterò ora mi piacerebbe pulire meglio questo oggetto a cui già volano via pezzi io divento nervoso come una bestia l'oggetto si presenta impolverato ma io sono molto curioso sfasciandolo di aprire questi coperchietti e di guardare cosa c'è all'interno quindi ora prenderò un apposito attrezzo per sollevare queste clip e aprirò questo coperchietto bianco ed ecco una scheda vedete c'è una scheda e quindi controllo le saldature e devo dire che sono tutte ok non si sa mai ecco perfetto mi sembra decisamente superfetato una parte di me vorrebbe aprire anche questa parte ma sono sicuro che se apro qui cosa che sto facendo salteranno via molle e ingranaggi da tutte le parti io distruggerò questo questo cosmo rimediabilmente ma come vedete lo sto facendo e ne pagherò ne pagherò le orrende conseguenze di sicuro ma io già da qua vedo a vedo contatti striscianti si vedono si intravedono dei contatti striscianti vedete quindi qua c'è del grasso ora io non ho il grasso qua da mettere ma se ci riesco vediamo cosa posso mettere ho cercato non ho del grasso metterò un paio di gocce d'olio in punti strategici olio che metterò tramite questa boccettina contenente olio di recupero ecco così perfetto forse non è una buona cosa quella che sto facendo ma me ne sbatto ormai l'ho fatta e qua richiudo le clip tornano al loro posto ma quello che farò sicuramente è del vd 40 su questa morsettiera meglio abbondare che essere deficienti dice il proverbio e io abbondo pur essendo deficiente qua mi metto a posto il coperchio magneti marelli ricambio originale usato ma proveniente a quanto pare da un'auto che ha avuto poche vicissitudini e ben pochi chilometri trovare uno straccio mi permetterebbe di pulirlo meglio ma non lo trovo ma noi abbiamo l'intenzione di complicarci la vita perché noi abbiamo questo che è è mangiato dai topi forse qui e qui ma per il resto è molto solido discreto ed è anche dotato di ragno c'è un ragno in dotazione vedete quindi noi metteremo questo al posto di questo perché questo è putrefatto come vedete è in putrefazione essendo in putrefazione io lo eliminerò e metterò questo che è solido poi queste parti magari si potranno chiudere ma come vedete da questo lato non è niente male e soprattutto è rigido quindi faremo anche questa cosa nel mezzo del gotowi ho posizionato il cavalletto in una posizione che più precaria non si può sono sicuro che il telefono finirà in terra e si spaccherà miliardi di pezzi cassettina attrezzi della lidl spettacolare a occhio io direi chiave da 10 che però qui non ci entra quindi mi serve un adattatore e quasi quasi direi pure una prolunga per lavorare comodo quindi così così e così e svitiamo questi dadi questi bulloni ecco così li avvito ovviamente perché sono il coglione va bene questi vengono via come niente perché li avevo già smontati e ingrassati qualche anno fa e sono rimasti ingrassati per bene ora con odio dobbiamo togliere questo è il cavo della radio che ora magari vediamo se riesco a passare meglio cavo da 10 cavo bullone da 10 come cazzo parlo non si sa ma niente ma niente ma niente che metteremo lo metteremo qui per ora gli mettiamo i bulloni e adesso devo svitare il pirlo e il tergicristallo e devo necessariamente chiudere il cofono odio questa vite autofilettante torx ma posso essere stato così coglione una maledetta autofilettante torx questo è il suo inserto questo è il suo odio l'odio lo mettiamo qua purtroppo qua mi è saltata via la molletta e i bit mi cascano devo fare qualcosa esibitiamo questa torx e facciamo ciò che va fatto con le torx e cioè vediamo se questa cosa esce se questa cosa non esce come cazzo esce sta cosa come si tira fuori questo stronzo probabilmente ecco forse con l'odio si uscito con odio comunque il problema è proprio lui e ora dobbiamo svitare questa troiata mi sia conferita una pinza ho una chiave una chiave inglese regolabile e con questa detengo la vittoria grazie alla cina certo se questa merda non fosse una cagata di plastica vomitata ecco ecco porco maledizione maledizione ma maledizione maledizione E adesso torniamo all'interno del cosmo. Io ci provo a non bestemmiare, ma non è fisicamente e umanamente possibile. Non si può. Non è possibile. Il creatore stesso che non me lo consente. Non me lo consente. Adesso questo coso dovrebbe poter uscire. Ecco, lui è uscito ma ho fili in mezzo al calzo, logicamente. Perché questo cavo del calzo che ho messo io è fatto in mezzo ai coglioni. Ora qui c'è il connettore. Che posso tirare. Ed è uscito. Ora le condizioni di questo. Non so. Ma quello che potete osservare. Il gioco. Il gioco di tutto questo assembly. Di questo oggetto. E vediamo questo qua invece. Questo non ha praticamente gioco. Questo è stabile come una roccia. Bene. Questo rappresenta solo una cosa. Una vittoria. Una vittoria totale. Potremmo provarlo. Prima di montarlo. Ed è la cosa che faremo. Ecco. Io l'ho collegato. Lo metto così. E ora accenderò il tergi. Cristallo. Silenziosissimo. Guardate che bel movimento che fa. Vedete questa cosa. Fa proprio su e giù. È bellissimo. Potremmo costruirci delle cose magnifiche. Con un meccanismo di questo tipo. È veramente fantastico. Pensateci. Estremamente silenzioso. Sono contento. Ora questo filo. Mentre ci siamo. Io vorrei passarlo meglio. Lo mettiamo in alto. Così non rompe i coglioni. Questo lo rificchiamo. Superfetando. Questo sta lì. Sono un coglione però. Che devo togliere questo. Ecco. Ripeto. Questa sta qui. E qua ci metto le due viti. Ora le metto subito. Così lui sta fermo e vaffanculo. Avrà forse detenuto una vittoria. Mancano le piastre. Che vanno tolte. Da qui mancano queste enormi. Rondelle. Queste rondelle di superfetazione. Che tolgo facendomi quasi malissimo. E queste vanno messe lì. Vanno messe qua. Sono sicuro che voi non vedrete un cazzo. Perché c'è in mezzo la mia testa di minchia. Eh ma che devo fare? Ovviamente io non vedo neanche dove sto. Porco. Devo usare le due mani in posizione in vera e conda. Maledetto. Maledetto. Sì l'ho messo sì. Gliel'ho messo. Una fatica immensa. Immensa. La cosa comoda sarebbe stata di togliere il cofano. Ma purtroppo non ci è consentito vivere comodamente. Perfetto. Ora. Questo è a posto. Ora gli metto di nuovo questo. Questo. Qui. Ma ora stringerò questi. Perché il cazzo si è spaccato. Il po' che il cazzo si è spaccato. Completamente. Grazie a Lidl per averci regalato la possibilità di comprare questo kit di attrezzi. Questo è il kit di attrezzi della Panda. C'è quasi tutto. Ok. Questo è messo. Quindi poi metterò 300 fascette. Ok. A questo punto converebbe stringere lì e provare. Che è una cosa che potrei fare effettivamente. Quindi via questo motorino del cazzo. Chiudiamo. Prima te la prendiamo la chiave. E vedi. Ah qua non si chiude logicamente. Spacco tutto. Ti metto qua. Lo appoggio. Non c'è il verso. Di stringerlo bene. C'è il cofano in mezzo. Ok. Perchè l'hanno fatto in plastica non si capisce. Proviamo il rumore senza spazzola. E a questo punto in teoria non ci resta che posizionare questi. E io so già che sarà una catastrofe. Sbaglierò e rovinerò tutto. Quindi questo lo ficchiamo. Qui. E come vedete lui sta. Poi. Questa immagino che vada aperto. Ed è durissimo. E come cazzo faccio adesso? A metterlo. Questo coso. Allora immagino che vada così. Ma io come faccio? Che ti fa? Cri... Vediamo. Forse va... Forse va proprio incastrato così. E quindi io... E quindi sembrerebbe messo perchè non si muove. Chissà. Togliamo questa cagata. Posizioniamo il bracetto. E vediamo il funzionamento. Sono sicuro di averlo messo male. Perfetto. Perfetto. E' perfetto. Vittoria. 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 Per completare l'orrenda operazione. E' il caso di montare questo. Che sì. Non è proprio il massimo. Però sicuramente è più rigido dell'altro. E quindi io questo glielo metto. E vaffanculo. Ora mi piacerebbe metterlo senza smontare la batteria. E non so. Se ce la farò. Ma io ci proverò. Devo infilare questo. E farlo girare. Da qua. Se non ci fosse questo pezzo. Che va dappertutto. Devo infilare questo. La batteria fa. Ok. Me lo devo tirare da qui. In modo che. E cammina. Porcazzo. Maledetto. Ma perché non scende? Perché? 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 Ma è spettacolare. E' perfetto. Veramente gotowi. E' questo. Ecco la parte rovinata. Vedete? E' questa. E' proprio gotowi. Sono veramente in una situazione gotowi. Mi sono rotto l'anima. Anima e culo. Mi sono rotto. Mi sono rotto il culo e anima. Per rimettere. Questa cosa qui. Gotowi. Questo ci va sopra. E' già. Ecco. Qui abbiamo una bella imbottitura. Bene. Gotowi. Oserei dire gotowi. Ah. La mia schiena chiede petà. Mentre ora qua abbiamo. Filia Katzen. Bene così. Questo lo togliamo. Glielo ficchiamo sopra così. Gotowi. Gotowi. E' questo pure. Così lui. Se ne sta lì. E abbiamo una. Un firewall. Come si suol dire. Ora devo mettere solo il cazzo qua. Dove cazzo l'ho messo? Questo pezzo di plastica. Che va. Esattamente sotto il Gotowi. E' perfetto. Veramente perfetto. Perché qui non sta. Perché ci sono questi fili del cazzo che ho aggiunto io. Ecco perché. Ecco. Madonna che bello. Madonna. Ah è magnifico. Perfetto. Ho raggiunto proprio la perfezione pandistica. Ora se riuscissi a pecciare qua. Con un pezzo di merda nero. Forse potrebbe anche essere più guardabile. Ecco infine i punti deboli della situazione qua. Abbiamo boccole. Larghissime proprio. Consumate. Anche qui abbiamo boccole. Con un sacco di gioco. Vedete. Non è tanto questa parte qua. Ma è tutto quanto che si muove. E tutto il meccanismo. Che. Che fallisce. Ora questo tergicristallo ha 200.000 km. E il motorino sicuramente ancora funziona. Però il leveraggi no. Quindi non so. Ci farò qualcosa. Con questo oggetto. Realizzerò qualcosa. Cosa. Grazie.